L'ho ucciso, è un mostro, è una locusta, aspetta allora faccio poi una parentesio, lui era un mostro cattivo, lui lo ha ucciso, tu sei quello di Gears, è vero? Quello è il suo mitra, lui è un mostro, ma io lo sapevo che tiravate fuori veramente delle idee incredibili, anche loro sono allibiti di quello che sta succedendo, però ok, perfetto, ecco questa è una battaglia che poi però avrà un finale a sorpresa, perché Marcus e il Master Chief in realtà non vogliono più combattere, no, perché vogliono fare pace, perché Marcus e il Master Chief ragazzi sono... No! Ah, finalmente la mia nuova Xbox, siamo io e te da soli, finalmente, ho detto una scusa alla mia ragazza, lei sarà sicuramente a casa che si annoia a non far niente. Ciao Luca, gioca pure. Vuoi sposarmi? Sei l'unica ragione della mia vita, ti prego, sposiamoci, ormai è dieci anni che stiamo insieme, ma non mi vuoi ancora sposare, ho tutta la collezione di Arda oggi, dal primo giorno a oggi. E Marcus trova moglie, ma che bello, ma che bello, attenzione alla conchiglia Marco, bravo. Amore, amore, ti ho preso la petition 3. Attaccatelo. Bravissimi veramente, Marcus e lui, voi due. Eh, ma lei, ti posso spiegare, non è come pensi. Allora anch'io te vado per un mio. Master Chief, contro Master Chief non posso. Beh, ma ti dirò perché io ne ho due, lei, e lui, vieni, vieni. Ciao, sono Simone Zulian e anch'io uso Kinect. No, bro, vieni qua, bro. Questa si porta a casa, bro. Questa è tutta nostra, bro. Dai, portala via, bro. Yeah. Yeah. Cosa mi porti per Natale, Master Chief? Mi porti l'Xbox, mi porti l'Xbox. Amici per sempre. Com'è. 且i Beata. Som'è. Com'è. Grazie a tutti. Grazie a tutti.